Vengo subito anche da Rossi Albertini, perché? Perché effettivamente lei ieri ha detto una cosa secondo me illuminante, nel momento in cui abbiamo, come diceva anche il collega Lenzi, per tanto tempo denunciato il problema della siccità, il terreno non riesce più ad assorbire improvvisamente tutta questa quantità di acqua, quindi l'acqua non riesce più ad essere drenata e di conseguenza succede che straripa tutto quanto. Ecco perché è fondamentale che la politica sia lungimirante, che operi in maniera preventiva proprio con la manutenzione, molto più di quanto non facesse già prima. Sì, perfetta come riflessione. Voglio aggiungere a quello che diceva Giuliacci, il fatto che i cambiamenti climatici hanno proprio questa caratteristica, che dopo un periodo di siccità può arrivare una pioggia alluvionale, proprio perché i cambiamenti climatici hanno come caratteristica specifica il fatto di essere estremi, di andare da un estremo all'altro, con la differenza, vi faccio riflettere, che mentre la siccità è un fenomeno di lungo periodo, quindi c'è possibilità di contrasto, ad esempio irrigando i campi quando c'è disponibilità d'acqua. Nel caso invece di piogge alluvionali, no, perché tutto quanto si consuma nel giro di poche ore. È per questo che sono due i piani diversi di intervento. Da una parte sicuramente cercare di alleviare la condizione di siccità, facendo ricorso magari alle nuove tecnologie per l'irrigazione dei campi e in generale dei terreni siccitosi. Dall'altra parte però il dissesto idrogeologico, perché come dicevate giustamente, questa qui è una priorità adesso, ma noi scienziati per l'ambiente la denunciamo da tanto tempo, perché il nostro territorio è fragile, è vulnerabile ed è in condizioni di dissesto idrogeologico non soltanto lì in Emilia o nelle Marche, ma macchia di leopardo in tutto il paese. Quindi appunto ci vuole un piano straordinario di intervento per la messa in sicurezza generalizzata di tutto il territorio. Morani, Lenzi, tra poco vengo da voi anche perché Rossi Albertini, vengo anche da lei sempre sulla stessa problematica, cioè abbiamo sempre più bisogno che questo problema ambientale di queste situazioni sia sempre più presente, che venga comunicato e divulgato in maniera corretta, perché poi effettivamente tanti soldi vanno buttati. Forse la manutenzione ordinaria non porta consenso dal punto di vista elettorale, ce ne dimentichiamo. E allora la manutenzione non viene fatta e magari preferiamo fare il parchetto per i bambini, perché ci piace avere il consenso, però lì è sbagliato, bisogna andare soprattutto sulla manutenzione ordinaria. Naturalmente sì, allora per quanto riguarda la divulgazione, io devo fare un'attestazione di stimo e riconoscimento al Tg4, che ha continuato in tutti questi anni, io sono stato ospite tantissime volte, a parlare degli argomenti, di questi argomenti anche quando non c'era l'emergenza. E' questo che va fatto, perché la gente deve essere informata, deve essere costantemente cosciente del pericolo che incombe, non soltanto nel momento in cui si scatena poi la rabbia della natura. E vorrei fare una precisazione, è assolutamente vero che questi fenomeni si sono già verificati, prima Massimiliano Lenzi parlava dell'alluvione di Firenze, ma attenzione, le caratteristiche sono assolutamente differenti. L'alluvione di Firenze è conseguenza di una quindicina di giorni di pioggia insistente, qui invece parliamo di poche ore, è questa la differenza. E quello che diceva Andrea Giuliacci è sacrosanto, d'altronde tra scienziati non potremmo sicuramente esprimerci in maniera discorde, cioè il fatto che la quantità di acqua, prendiamo dell'alluvione di Firenze, sto estremizzando, ma d'altronde questo è il succo del discorso, è stata concentrata in poche ore. E quindi è chiaro che l'alluvione si verificò in quelle circostanze e in queste, ma in queste ha le caratteristiche di urgenza, perché a Firenze la gente vide che pian piano aumentava il livello dell'Arno e quindi anche se poi non ci fu modo di intervenire, però almeno cercò di mettersi in sicurezza, ebbe consapevolezza. Adesso non è più così, quindi le misure di allarme, di prevenzione sono essenziali.